Questo dramma di 85 lavoratori a Ponte d'Era che si sono trovati dall'oggi al domani senza posto di lavoro dove magari prima delle ferie avevano avuto delle rassicurazioni in un'impresa che chiaramente produce marmitte, dipende totalmente dal ciclo produttivo della piaggio ha consentito di sinergizzare tutti i suoni delle varie forze politiche e arrivare, io ho messo i due emendamenti a quella che era la mozione originaria all'approvazione di un voto unanime che non è solo di solidarietà ma che è attraverso il dibattito di indirizzo a come muovere le istituzioni a supporto di questi lavoratori sia verso il titolare dell'impresa sia verso la stessa piaggio. Devo dire che stamani il Consiglio regionale ha svolto su queste questioni una funzione davvero di grande autorevolezza e indirizzo nei confronti del mondo produttivo e di solidarietà ai lavoratori.